Buon sabato e buon caldo. Buon sabato e buon caldo. Prima di tutto ragazzi vi diciamo che domani saremmo regolarmente aperti come tutte domeniche dalle 10 alle 20. Cosa accadrà? Fa un pochino meno caldo che fuori. Abbiamo un pratacchio ventinatore. Uno laggiù laggiù laggiù. C'è la macchina del vento con dentro la classe. Siamo freschissimi. Quindi cambio di programma. Avevamo deciso inizialmente di pubblicare i vini di musica classica. Poi abbiamo pensato ma la classica ho 47 gradi all'ombra. Fermatevi un attimo. Vi fanno ballare tutto il weekend e tutti i weekend. Vi spieghiamo perché. Perché abbiamo dato poi al magazzino oltre 400 compilation dance anni 70 80 compreso questo bimbo mix che non so proprio il video. Che voglio mettere i video Fabè? Iri Keira? Rovina Power? Pippo Franco? O Eder Parisi? E' la verifica di questa etichetta. Come no? C'è sta baby la storica baby records. Comunque ragazzi sul nostro sito www.ministracca.com e su Facebook pubblicheremo tutte le copertine oggi e domani e anche il prossimo weekend perché ci ha di tempo per pubblicarle con i video un video per ogni compilation. Chiaramente cliccate sul link che mettiamo sotto la copertina se vi interessa. Ovviamente sono tutte copie singole. Questo pare che ce n'è pure. C'è pure le nesrive guarda. Ma se potessero ragazzino quant'anni c'è oggi. Allora avrà sui 60 anni purtroppo. 60 anni. Mamma mia guarda col cuoricino. E poi no facciamo vedere pure lo sticker interno perché questa è la storia. Questa è la storia dell'italo disco ragazzi. Questa è stata la favolosa baby records. Certo non si parlerà di di Led Zeppelin, di ACDC, di Black Sabbath, di Pink Floyd, di Manescape, però posso dire una cosa. Va bene così. Tutte compilation per tutta l'estate vi faremo ballare tutte originali in condizioni perfette. E vai. Io metto disco bambina.